ah ah, è morto ok, prima esplodiamo anche di là leggermente vuoto sono le zombie nemmeno uno scheletrino un creeperuccio i miei mate creeper o c'è uno spawner di zombie o sono in quantità sbupositate ok, mi sto mantenendo troppo no ok, le... aspetta che metto un po' di torce visto che mi pare che sia finita ed infatti allora qui mettiamo un'altra cosa va beh, torniamo indietro per di qua anzi no, che dilacera del ferro vabbè qui porca alla faccia della miniera di carbone e qua prosegue in maniera illimitata la miseria qui non ne parliamo scheletro prima cos'è la faccia di un chip ah no c'era stata l'ombra vediamo se di qua si può andare a 4 a 4 scuola.it grazie c'è un po' di carnetta devo accogliere un po' di quella roba bellissima chiamata ferro non dirà ce n'è altro male qui quanto così mi vado a fare l'armatura prima di proseguire che sarebbe un suicidio vabbè qui carbone vabbè qui non quello che possono salire voglio vedere un po' che gente c'è qua dietro vediamola in fondo vedo un paio di zombie magari un enderman non riesco a vedere bene da qui facciamo la torta ok ok altro ferro vediamo ferro ferro forse di là ah no qua è vero che finiva ok spero che non sia notte spero bene spero spero di sperare bene si ancora il giorno ho altri 14 pezzi con questi più quelli che ho 20 posso farmi un po' di armatura dove va il sole perchè l'armatura è fondamentale morire in casino di volte ho capito come volete vedere urlare come un pazzo ma c'è voglio dire morire non è cosa buona e giusta vabbè ce l'ho la scelta si benissimo peine 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 per allora aspetta per dopo questo sì fra poco stopperò la parte perché insomma sto giocando anche da un pochino mezzo petta credo mi sta giocando bene esageriamo anche di più quante giorni e notte sono passate Giorno e notte, giorno e notte 24 ore E ora mi segnaleranno il video Per canzone Copyright, content Ma invece no Perché la mia voce è fatta al mente schifo Che non potrà mai assomigliare a quella della cantante Qui stiamo un tanto facendo E faccio la chestplate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 No crap Can you believe this? Can you believe this? Ok 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 Ta-da-da Ta-da-da Ci mettiamo la corazza Quanto sono figo Arazza E allora E allora, allora E allora La seconda parte sarà cappello E Gambe Perché i stivali sono quelli che danno meno Perché infatti costano anche meno In effetti sono proporzionati Spacca anche velocemente Dai finiamo Che devo staccare la parte Devo andare in bagno Devo andare in bagno ragazzi 6, 6 dovrebbe bastare Sì E voglio che non basti Beh ce ne vogliono 7 7 Allora Con 5 faccio cappello Sì sì Questo E vabbè Questi finiranno Prima o poi Dormiamo Allora 2 Dai 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 Veloce 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 ce la puoi fare qua Penso che mi farò Una fonte di acqua Infiniterrima E per infiniterrima Aspetta Vediamo se qui sotto Non c'è nulla Sì Ok Però mi ci vuole del legno Perché è antiestetico Così come No Mouse Schifoso Ultimo Ok Ora che è tutto legno Già mi metto uno là E aspetta Finisco qua Brene Brene Mamma mia Un cappelletto Ecco qua Volevo prendere L'ultimo pezzo Di infame Infamesima Acqua Tra lalero Tra lalala Tra lalala Tra lalala Beh abbiamo anche Abbastanza cose Di cose di E orco Eeeh Cobblestone Potremmo iniziare A fare le scale Ma non so Vedremo Nelle prossime puntate Prospetto L'ultimo finire L'ultimo finire Non ti racconfinito Quattà Infinita Infinita Infiniti Like What the hell is going on Is infiniti Is infiniti Is infiniti Ok basta Ok basta Riempiamo E basta Bisogna stare più calmi Dai su Dai Stai calmi Stai calmi Ciao a tutti Tanti Non ti racconfinito No ti racconfinito No ti racconfinito Non ti racconfinito Nellano Grazie a tutti.